buongiorno a tutti buona domenica e benvenuti in un nuovo appuntamento con le news alla settimana volevo cominciare questo video col ringraziare gianluca del colosso di nerd.com che mi ha fatto compagnia nella live che si è tenuta sul canale venerdì sera una live che è stata inaspettatamente piena di gente essendo venerdì sera ma siete stati veramente tantissimi quindi grazie gianluca e grazie a tutti i presenti anche a coloro che hanno recuperato il video poi in un secondo momento in quella live abbiamo parlato in modo un po più approfondito di tanti annunci quelli più importanti che sono stati fatti nel corso del wonder festival 2024 che si è tenuto a shanghai il 2 e il 3 di ottobre e questa è stata una settimana davvero ricchissima per tutti gli appassionati di action doll in scala 1 a 6 ma per le action figures in generale quindi questo video news della settimana ragazzi andrò a parlare di un paio di cose che di cui non abbiamo parlato da parte di hot toys e poi farò un recap generale cercherò di essere il più veloce possibile citando soltanto quelli che sono gli annunci e che cosa ci aspetta per le release nei prossimi mesi quindi cominciamo da ciò di cui abbiamo già parlato quindi per questo bane della the dark knight trilogy trovate un video dedicato sempre sul canale uscito se non mi sbaglio lunedì all'inizio della settimana perché questa settimana appunto a parte il wonder festival è stata veramente molto molto intensa sotto tanti punti di vista questo è uno delle release bene una delle release che ha fatto hot toys fatti bene tratto dalla the dark knight trilogy poi ha rilasciato anche i g12 per the mandalorian quindi tratto dal mondo di star wars e tech sempre per star wars ma serie tv the bad batch questi sono stati i rilasci che sono stati accompagnati poi nel corso della settimana da altri due rilasci quelli che appunto non abbiamo ancora trattato sul canale che sono cane tratto da john wick 4 personaggio meraviglioso per quanto mi riguarda è una nota spalla se vogliamo chiamarla spalla perché in realtà non è proprio così del grande john wick quindi rimango in attesa per quanto mi riguarda anche di john che penso che a questo punto verrà rilasciato nelle prossime settimane spero prima possibile e qui con che in ragazzi direi che il lavoro fatto da hot toys sembra davvero molto promettente mi piace davvero tanto non l'ho preordinato perché ho dovuto fare una scelta per quanto mi riguarda ma non escludo che potrei recuperarlo in un secondo momento poi oltre a cane hot toys quindi siamo a quota 5 rilasci per questa settimana ha rilasciato anche star lord tratto o star tratto da i guardiani della galassia volume 3 un altro personaggio che stavamo aspettando in tanti almeno credo che va ad arricchire la squadra dei guardiani della galassia nella loro ultima comparsa almeno così pare nel mcu quindi nel nel universo marvel cinematografico quantomeno quindi anche questo un altro pezzo da non perdere rilasciato da hot toys guardate che head sculpt meraviglioso ovviamente il mio problema per quanto mi riguarda è che se prende lo star lord ovviamente devo recuperare tutto il resto della squadra e al momento mia grande colpa è quella di non aver ancora nessun membro dei guardiani della galassia e dovrò assolutamente rimediare poi una menzione veloce anche per invece l'unico vi annuncio ufficiale ufficiale di hot toys ne abbiamo già parlato appunto nel video dedicato uscito lunedì che vi invito a recuperare ragazzi alle queen da the suicide squad una le queen artisan che uscirà in una edizione limitata a 3000 copie quindi innesto per i capelli e valutate voi insomma qualcuno critica leds cult perché sembra che sia riciclato da una vecchia doll ma insomma ditemi voi che cosa ne pensate poi facciamo un rapido recap a questo punto di quelli che sono gli annunci che sono stati fatti annunci non ufficiali ragazzi ma soltanto roba mostrata io questo ve lo ricordo perché anche in live c'è un po di confusione da questo punto di vista queste sono del doll che sono mostrate in fiera potrebbero anche non uscire alcuni sono prototipi alcuni sono soltanto delle bozze ok però di norma meno per quanto riguarda hot toys di norma quando fanno vedere qualcosa di solito lo faranno uscire ok quindi una cavellata veloce poi nel caso ragazzi recuperate la live per avere qualche dettaglio in più abbiamo il tony stark con dura della scena in iron man 3 in cui torna ad incontrare il padre quindi con la sut del 1970 abbiamo già visto harley queen abbiamo salvaggio press da star wars the clone wars alien dali a romulus questo un altro pezzo imperdibile ragazzi bellissimo davvero molto molto bello poi il samurai predator anche questo già l'avevamo visto in un video dedicato ed è appena uscito il preordine sui colosso di nerd.com e lo vedremo fra un istante qui abbiamo il trittico di dedicato a terminator 2 meraviglioso abbiamo il battle damage che era già stato annunciato ne avevamo già parlato e inoltre è stato annunciato anche il t1000 e il t800 nella sua versione standard quindi senza danni da battaglia e qui c'è stata una grande confusione un grande c'è confusione nel senso positivo oddio oddio prendo la battle damage o prendo la versione normale versione standard questo è un dilemma che affligge anche meglio penso che andrò per la battle damage piccola parentesi poi abbiamo spaventapasseri sempre per la dark night trilogy un venom a sorpresa tratto dal fumetto anche questo mi sembra un pezzo davvero eccezionale che mi interessa anche se ho già recuperato che ho già recuperato già preordinato il venom tratto da marvel spider man 2 quel bestione di 50 centimetri e più che probabilmente uscirà fra qualche settimana comunque un altro pezzo clamoroso poi abbiamo immagini dottor doom spider man da the amazing spider man che di cui sono usciti preordini sul colosso di nerd e lo vedremo anche questo fra pochissimo il batman returns e altre uscite come ad esempio il predator questo predator che avevamo già visto un immancabile iron man che bacca jar jar batman e robin della serie con cluney del film con cluney scusate ovviamente immancabili dead bull e wolverine e poi qualche immagine di alcune doll che sono state in realtà già annunciate in precedenza ma non sono dei nuovi annunci questo per quanto riguarda il fronte hot toys quindi più o meno abbiamo coperto tutto quello che è stato mostrato da hot toys immancabile la presenza ovviamente al wonder festival anche di in art con altre immagini di legolas anche qui ne abbiamo già parlato in modo più o meno approfondito nel video news della settimana della scorsa della scorsa settimana la scorsa domenica e in quello di lunedì dove erano usciti degli ulteriori dettagli poi al wonder festival è stato mostrato anche questa è stato mostrato anche questo pigeon che secondo me è una meraviglia assoluta non è ovviamente il prodotto finito si tratta ancora di un prototipo ma io direi che anche così va benissimo e poi questa catwoman che è già stata molto criticata perché appunto per le fattezze del viso io ragazzi vorrei soltanto precisare come ho fatto in live che al wonder festival del 2023 se non mi sbaglio era stato mostrato questo torin scudo di quercia quella che vedete sulla sinistra è l'immagine del wonder festival 2023 quindi che era ancora un prototipo quella sulla destra è l'immagine dell'head sculpt di torin al wonder festival 2024 in basso a sinistra invece vedete la stessa cosa per aragorn quindi quello che vedete qui è soltanto un annuncio diciamo da parte di nato che dice guardate che stiamo lavorando su catwoman poi ovviamente non sarà l'head sculpt definitivo poi la 1 a 6 di wukong da black meat wukong scusate del videogioco ed ecco il nuovo torin scudo di quercia che sarà molto probabilmente il prossimo annuncio ufficiale di in art per quanto riguarda la wave dedicata al signore degli anelli il nazgul a cavallo appena annunciato bellissimo e poi le solite doll ragazzi che tutti conosciamo quindi ermione ripotter e quelle che sono in fase di uscita per in alta poi ovviamente blitzway immancabile la presenza di blitzway che non solo ha presentato i nuovi ghostbusters nuovi ghostbusters che vanno a sostituire una sorta di reissue con delle espressioni facciali leggermente diverse correggetemi se mi sto sbagliando però comunque sono delle ristampe dei famosi ghostbusters della blitzway quelli che sono sempre stati super ricercati e sono stati anche oggetto di molti scalper però a parte questo discorso sono stati ristampati e sembrano più in forma che mai molti si interrogano su quello che sarà il prezzo di questi ghostbusters speriamo che comunque rimangano in linea con quello della prima uscita quindi intorno se non mi sbaglio 1200 1300 euro totale per l'intero pack poi sempre blitzway ha annunciato delle action statue quindi delle statue che però hanno delle parti mobili e anche intercambiabili per obbio anche nobi e per anakin skywalker sono dei veri e propri capolavori come vedete il cambio della posa quindi ci sono le mani che possono essere mosse e quindi adattabili a diversi tipi di pose hanno delle articolazioni soltanto per le braccia e quindi sono anche queste molto belle qui vediamo anche anakin che è disponibile anche nella versione black label quindi con capelli innestati poi magneti sugli occhi per invece del pers per poter muovere gli occhi tramite magneti insomma roba di tutto rispetto ovviamente la black label sarà ad un prezzo che sarà praticamente doppio rispetto all'edizione normale e questo ragazzi sta a voi giudicare se sia giusto o meno detto questo io andrei su se mi funziona andrei su delle news in generale perché sono state mostrate anche diverse 1 a 12 ragazzi sia di in art con la sua nuova linea delle morfig sia da parte di altre case in generale quindi vi faccio vedere una rapida carrellata magari come vedete ci sono state anche altre figure dedicate a metaslag della tanshi studio non so se saranno solo per il mercato orientale o meno tanti robot tantissime cose ragazzi per cui ci vorrebbe veramente un capitolo intero per parlarne quindi ne abbiamo parlato ripeto in live di molte di queste cose però ovviamente ragazzi poi vedremo queste sono solo delle immagini mostrate a delle fiere alla fiera poi ovviamente quando arriverà l'ufficializzazione degli annunci questo vale per tutte le aziende quindi per toys in art eccetera queste erano solo delle immagini mostrate poi arriverà l'ufficializzazione con conseguente apertura dei preordini allora lì ovviamente sarò sempre qui pronto a parlarne con voi nelle news della settimana man mano vi usciranno facciamo il solito salto su ilcolossodinerd.com per andare a vedere gli ultimi arrivi sul sito in quanto a preordini è a roba disponibile vi segnalo quello che io almeno ho intenzione di recuperare che è questo fantastico Fat Boo Majin Boo buono diciamo ciccione sempre per Sage Figuarts di Bandai una reissue della vecchia edizione che era arrivata a dei prezzi folli ragazzi veramente sopra i 200 euro questa sta a 69 sul colosso dei nerdi quindi vi consiglio di recuperarlo se siete dei collezionisti di 1 a 12 di Dragon Ball perché è veramente un capolavoro secondo me poi Dragon Ball Diamond con questi Goku e Vegeta ha soli 34 euro e tanta altra roba sempre in casa Sage Figuarts e Figuarts Zero quello che mi preme farvi vedere di più ragazzi sono i preordini finalmente aperti per il Nazgul in scala 1 a 6 di Inart di cui abbiamo parlato fino a poco fa con la doppia versione, versione standard a 369 e versione deluxe con il cavallo bellissima a 579 ovviamente qui in Art ci sta chiaramente dicendo compratevi la deluxe perché con soli praticamente 180-190 euro di differenza possiamo avere anche il cavallo che secondo me è una meraviglia quindi fatevi voi i vostri conti e i vostri ragionamenti abbiamo anche l'Egolas a 4,99 quindi si va a confermare la stima che avevo fatto dai 450 ai 500 mi sono salvato proprio in calcio d'angolo poi altre figure anche questa della Queen Studio una statua del Batman di Ben Affleck in scala 1 a 4 e poi finalmente ragazzi ecco i preordini di due delle tre doll che sono state annunciate la scorsa settimana quindi The Amazing Spider-Man, il Samurai Predator e Doctor Doom il preordine di Doctor Doom ancora si fa attendere ma sono usciti quelli del fantastico Predator Samurai il Predator H.A. Oni a 439 e Amazing Spider-Man disponibile in due versioni standard e deluxe 319 per la prima 349 per la seconda ora ragazzi io credo, credo di aver fatto una panoramica più o meno precisa delle cose più importanti che sono state annunciate questa settimana è stata veramente una settimana molto molto intensa una settimana di un mese che sarà altrettanto intenso con tantissime release e il mio portafogli la sta avvertendo questa cosa perché arrivano veramente tantissime cose dopo un paio di mesi di relativo relax, scusate, relativa calma quindi sarà un mese molto intenso per noi collezionisti di questa roba e sono da una parte veramente molto contento dall'altra anche molto preoccupato fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti quali sono le cose che vi interessano di più quali quelle che preordinerete quali invece state aspettando che sono già uscite e di cui vi state aspettando appunto l'ufficializzazione che vi arrivi a casa detto questo ragazzi io vi ricordo i soliti appuntamenti del canale con qualche video qua e là dipende quando riuscivo a farlo uscire giovedì il solito unboxing e poi domenica di nuovo il video con le news della settimana sperando che questa settimana sia un po' più tranquilla io vi saluto vi rinnovo il buona domenica ragazzi buon inizio di settimana ciao ragazzi a presto